ciao ragazzi boomer kramers oggi provincia di verbania siamo a mergozzo stiamo salendo montorfano per fare una appunto la via ferrata montorfano che è una nuova ferrata in una realizzazione qui siamo saliti da una carrabile un po di smessa militare e qui sentire che continua verso l'attacco un'altra carabinata un'altra carabinata Buongiorno 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti